Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video questa location è il motivo per cui io non mi faccio quasi mai vedere in webcam perchè non ho praticamente una postazione adeguata ma anche perchè sono pigro e non mi va di mettere la mia immagine però vabbè questo è un altro discorso ragazzi questo video è per ringraziare tutti, tutti quanti iscritti tutte le persone che mi sono state accanto al raggiungimento dei 1000 iscritti finalmente ci siamo arrivati, è stato un percorso veramente lungo diciamo il canale è nato due anni fa come la grotta delle drago è nata prima la pagina instagram, poi si è tramutato dal canale youtube ma è soltanto da aprile, quest'aprile abbiamo avuto un restyling e un'altra, tutto un altro paio di mani che è stato alla fine perchè comunque avevo un po' abbandonato il canale perchè un po' perchè non sapevo più cosa portare un po' perchè era troppo investire in yugi per quello che portavo prima ho detto accantone un attimo poi ho fatto, sai che c'è? il fatto di portare profile budget e parlare di mazzi budget è sempre stata una cosa che volevo portare perchè era una cosa che mi tocca particolarmente quindi ho voluto prendermi una webcam decente un microfono, non questo ma un altro di fortuna mi sono fatto tutta la postazione più comoda e ho iniziato a portare video e ho iniziato a portare aggiornamenti aggiornamenti che non ho iniziato a portarli perchè non ne parlava quasi nessuno in yugitube italia li ho portati perchè mi andava di farlo non mi ero prefissato nessuna cosa con la storia degli aggiornamenti ma vedevo che comunque c'erano delle carte molto, uscite delle carte abbastanza forti ho detto perchè non parlarne e da qui è iniziata tutta l'escalation tra virgolette piccola escalation perchè in due anni avevamo fatto 270 iscritti e da quando è iniziato ad aprile questa cosa ad adesso ne abbiamo fatti più di 700 quindi è stato veramente un piccolo boom in cui io neanche mi sarei mai aspettato una cosa non mi sarei mai aspettato una cosa del genere quindi devo dirvi grazie anche perchè comunque i miei video sono molto semplici non c'è diciamo chissà quali tagli chissà quali immagini fighe anche perchè io sono sempre stato un tipo che apprezza le cose semplici e detestavo sempre vedere nei video di yugi il fatto che non mi facessero vedere mi facessero vedere le carte dopo un po' prima la sigla la sigla è una cosa fastidiosa con tutto che io inizialmente la mettevo però ragazzi io è una cosa è soggettiva la cosa è molto soggettiva non la sopporto proprio quindi eliminiamo la sigla eliminiamo il fatto che parlo tre ore alla camera senza mostrarvi la carta cioè ogni video che vedete vi mostro subito le carte quindi è stata la prima cosa in cui ho pensato no voglio che vedano subito la carta così capiscono di che cosa sto parlando poi magari se mi dilungono il discorso va bene ma tanto mi devono ascoltare un'altra cosa che ho pensato è stato appunto cioè è un po' inutile che io metto graficone grafichine grafichette quando alla fine se io parlo di una determinata carta o di un determinato deck io metto quella e e basta cioè che altro vi devo mettere nel senso per me basta questo e rispecchia un po' la mia un po' la mia filosofia sì sicuramente quando quando e se riuscirò a portare magari duelli sarà molto più elaborata la cosa ovviamente adesso è un po' complicato non so neanche che attrezzature comprare per fare duelli quindi vedremo piano piano cosa accadrà remote duelle non credo riuscire a farli perché il pc cioè la connessione non mi reggerà ma non credo neanche il pc riesca perché comunque è un pc molto semplice ma che mi ha aiutato tantissimo quindi non regge determinate cose ma quello che devi fare lo fa egregiamente detto questo io voglio ringraziare ovviamente in primis tutti voi iscritti al canale che siete veramente fantastici di solito si dice così tanto per ma in realtà no veramente fantastici perché non ho toccato non ho avuto né insulti né critiche pesanti sempre critiche costruttive commenti sempre educati tanto appoggio nei momenti magari un po' no quindi veramente grazie 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 in più vorrei ringraziare Philly Stardust e Toda perché io ho iniziato un percorso i primi due che ho conosciuto per quanto riguarda i GnocchiTube sono stati i loro due gentilissimi mi hanno aiutato tantissimo ogni tanto ancora ci sentiamo un po' assiduamente magari con Toda leggermente di meno perché comunque è ultra impegnato poverino però ogni volta che magari gli chiedo consigli è sempre gentilissimo rispondermi quindi grazie Toda grazie Philly veramente grazie 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 e infine ma non meno importante anche un grandissimo ringraziamento alla mia ragazza perché mi ha supportato tantissimo in questa cosa mi ha anche comprato il microfono quando tutti mi hanno detto guarda c'è il microfono che gracchiava leggermente io lo sapevo che gracchiava leggerissimamente ma proprio quel tanto che basta per romperti i timpani e lei ha letto i commenti ha detto guarda te lo compro io no 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 invece poi me lo hanno comprato grazie anche a lei ovviamente che mi ha sempre supportato allora ragazzi sicuramente farò anche domani uno speciale strano no speciale strano parlerò un po' di una cosa sempre ricordante il fattore budget di yugi e di come ho iniziato a non denigrarlo tra mille virgolette più e quindi domani avremo lo speciale detto questo noi ragazzi ci vediamo come sempre nel prossimo video grazie ancora per tutto il supporto e niente appunto ci vediamo nel prossimo video è un salutone gigante a tutti